l'istituzione si parte parte alle volte di erice con blanco con blanco un cd di blanco andiamo a controllare la cosa 2 2 2 2 2 3 dietro ok stai controllando le gomme si vola si vola wow erice dall'altro bellissimo esperienza nuova la si vedono le isoleolie dietro di noi spettacolo stupendo io non immaginavo tipo aperte tipo quelle sono sulla neve sono tutti aperti per noi sono aperti si si vola si vola wow erice dall'altro bellissimo esperienza nuova la si vedono le isoleolie dietro di noi spettacolo stupendo io non immaginavo tipo aperte quelle sono sulla neve sono tutti aperti con i piedi penzavanti siamo diretti al borgo di erice abbiamo già ci siamo documentati sulle attrazioni da vedere esatto castello di venere mura passeggiatina al borgo i pali duomo di erice i pali Sì, che nebbia. Tutti questi conventi li hanno abbandonati, poi fino agli anni 70, poi ci hanno fatto l'ospedale. Sì, abbiamo fatto il shopping, dolci tipici, perché abbiamo comprato le ricine. Si vola, si vola. Wow! Lei riesce dall'alto, bellissimo. Una esperienza nuova. Ora si vediamo l'alto, bellissimo. Bene, dietro di noi. Spettacolo. Stupendo. Noi le immaginiamo aperte, quelle sono sulla neva. No, quelle sono sulla neva, le schifte. Sono aperte con i piedi penzonti. Noi le immaginiamo aperte con i piedi penzonti.